Buongiorno a tutti e benvenuti al terzo e ultimo incontro informativo sui disturbi alimentari. Oggi inizieremo con un intervento della dottoressa Sandra Sassaroli, proseguiremo con una relazione sul Vingetine Disorder e poi concluderemo con uno spazio dedicato alle domande da parte vostra. Innanzitutto benvenuti a tutti e do la parola alla dottoressa Sandra Sassaroli, direttore sanitario del CIP, che oggi purtroppo è impossibilitata essere tra di noi, però ha realizzato un video proprio dedicato per questo evento. Quindi farà il suo intervento attraverso questa registrazione che adesso vi condividiamo. Buongiorno, questo mio intervento è registrato perché purtroppo ho difficoltà ad essere presente di persona, però ci tenevo molto a raccontarvi un po' il senso di questa nostra operazione che facciamo con il CIP e che questa giornata riguarda le persone con un disturbo da boffata. Noi abbiamo incominciato a fare ricerca su disturbo da boffata fin dai primi anni 90 e tra i primi abbiamo pubblicato articoli sull'immuginio, sul controllo, sulla tendenza al controllo e anche sul perfezionismo, sia nelle ragazze con bulimia che con anoressia. E molto prima che se questo fosse fatto ricerca avevamo chiaro che ci fosse una sorta di patologia condivisa, cioè che condividono sia le ragazze che tendono a buffare, che le ragazze che si abbuffano e vomitano, che le ragazze che restringono l'alimentazione. Ci sono dei noccioli che sono dei noccioli comuni e il nostro progetto è nato per metterci alla prova con questi pazienti in modo non esclusivamente ambulatoriale, cioè non soltanto nelle nostre ore di psicoterapia. Perché? Perché se noi abbiamo oggi pazienti gravi, cioè che hanno bisogno di un ricovero, esiste soltanto l'indicazione dei ricoveri in strutture specializzate. Questi ricoveri hanno la funzione di salvare la vita in condizioni di emergenza, ma l'alternativa, come ho detto io, è assolutamente dura, cioè o ambulatorio con una seduta a settimana, oppure ricovero in strutture specializzate che è doloroso, difficile da sopportare. Ecco, noi proprio vogliamo, abbiamo pensato, e non siamo ovviamente i primi, di affrontare i disturbi di questi pazienti con un trattamento ambulatoriale intensivo, il che vuol dire che abbiamo due pasti dentro le attività di psicoterapia e di assistenza nella nostra sede, più una merenda. Si arriva alle 12.45 e si va via alle 19.30 e affrontando il problema dei pasti è evidente che noi affrontiamo un largo pezzo, insieme alle nostre pazienti, alle nostre nutrizioniste, alle nostre educatrici, del problema di queste ragazze. Questo è stato disegnato per pazienti non ancora pronti per interventi ospedalieri, oppure che escono dagli interventi ospedalieri e hanno bisogno di una stabilizzazione. Quindi, come vedete, l'indicazione è o prima di un ricovero o dopo, o al posto di un ricovero. E a volte ci riusciamo anche con un certo successo. Noi vogliamo accompagnare queste ragazze a riprendere un'alimentazione regolare con meno sofferenza e ansia e lasciare alle spalle una malattia che consuma il corpo, ma anche le energie psichiche e le emozioni. L'accompagnamento all'alimentazione regolare. Abbiamo preso come punto di riferimento il modello multi-step, by-step del protocollo CBT e di Villagarda. È stato messo a punto da Christopher Fairbourn tanti anni fa a Oxford e oggi è portato avanti in Italia dalla dottoressa Calugi e dal dottor Riccardo Dallegrave. Ecco, noi abbiamo loro nel nostro commissato scientifico, insieme a una nostra collega milanese dell'ospedale San Paolo e insieme a noi, e abbiamo pensato di poter fare una collaborazione non solo per avere le supervisioni per gli aspetti ambulatoriali intensivi, ma è in generale ambulatoriali, ma anche per portare avanti nel tempo, quando sarà tutto stabilizzato, una riflessione sui disturbi alimentari che parta da un centro in cui c'è una cura omogenea per tutti e di tipo efficace, cioè che si è dimostrato scientificamente che è efficace, e poi lentamente vedere se possiamo a questo protocollo efficace aggiungere la nostra esperienza di ricerca internazionale sui disturbi alimentari, così come quella di Riccardo Dallegrave e della Simona Calugi, provando a mettere o togliere degli aspetti di intervento. Ecco, noi apriremo quindi alla ricerca su studi longitudinali di pazienti e dentro la nostra struttura vogliamo usare, adesso piano piano ne introdurremo, un'applicazione che si chiama Interapy e che ci permette di seguire le pazienti dentro, ma anche quando saranno dimesse in modo molto stretto, perché si monitora l'andamento sia psicologico che della nutrizione. Ecco, questo è un po' il progetto come l'abbiamo facendo. È un progetto ambizioso, è stato anche rischioso metterci a fare questo gioco, ma da quello che sto vedendo in questi mesi, l'equip funziona molto bene e le prime pazienti che abbiamo avuto stanno avendo un ottimo successo, un ottimo successo nella riduzione della malattia da un punto di vista alimentare, ma anche nella flessibilizzazione del loro modo di funzionare dentro la nostra struttura, ma anche fuori. Questo è quello che volevo dire. Io cercherò di essere presente e così posso rispondere direttamente alle vostre domande, ma intanto vi saluto e grazie. Bene, ringraziamo la dottoressa Sassaroli che ci ha presentato, ecco, quello che è il progetto clinico del CIP Milano, ci ha presentato quali sono le prospettive anche. E adesso passo la parola alla dottoressa Laura Ranzini, psicoterapeuta del CIP Milano, che oggi ci parla di binge eating disorder, quali sono le caratteristiche cliniche e quali sono gli interventi efficaci. Prego, dottoressa Ranzini, le lascio la parola. Buongiorno a tutti. Allora, grazie alla dottoressa Nucita. Oggi appunto parleremo insieme di binge eating disorder, delle caratteristiche cliniche, quindi di come riconoscerlo e poi vedremo anche i vari tipi di trattamento. Partiamo con dei cenni storici relativi a questo tipo di disturbo. Il binge eating disorder è stato descritto per la prima volta negli anni 50 dallo psichiatra Stunkard, che aveva osservato all'interno della casistica dei suoi pazienti che vi erano alcune persone che mettevano in atto dei comportamenti di abbuffata, quindi avevano degli episodi bulimici senza condotte di compenso. Quindi questa è la prima osservazione. È solo poi negli anni 70 che, in seguito degli studi epidemiologici per valutare la prevalenza della bulimia nervosa, che si concretizza il fatto che venga considerato come un disturbo diverso dalla bulimia. Quindi nella seconda metà degli anni 80 effettivamente comincia a essere considerato come un disturbo separato. È soltanto poi nel 2013 che viene inserito all'interno del DSM-5, quindi del manuale diagnostico. Allora, vediamo chi colpisce il binge eating disorder. Gli studi di epidemiologia ci dicono che la prevalenza è dell'1,6% per le femmine e dello 0,8% dei maschi. Quindi diciamo che i tre quarti delle persone che soffrono di questo disturbo sono donne. C'è da dire però che rispetto alla bulimia c'è una maggior prevalenza di maschi e anche una maggior prevalenza di persone che fanno parte di minoranze etniche. Per quanto riguarda l'esordio, c'è da dire che l'esordio di solito avviene quando le persone vivono dei momenti di vita stressanti. Quindi c'è un momento di vita faticoso e viene utilizzato il cibo per la gestione emotiva di questo momento. Successivamente, dato l'utilizzo del cibo e dato che non vi sono condotti di compenso, ci può essere un aumento di peso. E quindi è successivamente che la persona utilizza un approccio nutrizionale dietetico per la perdita del peso. Questo avviene a differenza di quello che avviene nella bulimia nervosa dove appunto la dieta di solito precede l'esordio del disturbo. Ora, questo nella maggior parte dei casi. Tuttavia, ci sono anche situazioni in cui il binge eating si instaura dopo un periodo di dieta e di restrizione. Per quanto riguarda l'età di esordio, è più tardiva rispetto all'età di esordio della bulimia e dell'anoressia e quindi abbiamo pazienti con una fascia più ampia di età e la richiesta di aiuto avviene solitamente intorno ai 40 anni. Spesso il binge eating coesiste con l'obesità o con il sovrappeso, però è possibile riscontrarlo anche in persone normopeso. Chi ha un disturbo di alimentazione incontrollata comunque presenta il doppio delle possibilità del rischio di sviluppare obesità o sovrappeso. Rispetto all'obesità, dedicheremo una piccola parte verso la fine di questa presentazione perché è una comorbidità importante. Vediamo i criteri diagnostici del DSM quinto. Per avere una diagnosi di binge eating devono esserci ricorrenti episodi di abbuffata. La persona sperimenta un marcato disagio conseguente alle abbuffate. Le abbuffate devono verificarsi almeno una volta alla settimana per almeno tre mesi e non devono essere presenti regolari condotti di compenso che sono invece presenti nella bulimia nervosa. In questa tabella ho voluto un pochino riassumere le caratteristiche degli episodi di assunzione di cibo. Infatti per definire una abbuffata tale ci sono due criteri. Uno è il mangiare una quantità di cibo maggiore rispetto a quello che altre persone mangerebbero nello stesso tempo e in simili circostanze. E il secondo fattore è la presenza di perdita di controllo. Tuttavia la perdita di controllo può non essere sempre presente. Cioè talvolta può esserci più una modalità incontrollata di mangiare. Alcune persone che sperimentano episodi bulimici possono talvolta lasciare andare del tutto il controllo o possono addirittura programmare gli episodi bulimici. In questo caso si parla di abbuffata qualora la persona non riesca a fare a meno del comportamento bulimico. Quindi si parla di un episodio bulimico oggettivo qualora ci sia una quantità elevata di cibo e la perdita del controllo. Però talvolta le persone non riperiscono di aver mangiato una quantità di cibo così elevata. In questo caso si parla di episodio bulimico soggettivo. Se non c'è la perdita di controllo ma la quantità di cibo è elevata, si parla di episodio di alimentazione eccessiva. Sempre riguardo alle abbuffate vediamo altre caratteristiche. La persona mangia fino a sentirsi sgradevolmente piena. Non è necessario che ci sia la sensazione di fame prima dell'abbuffata. Infatti spesso le abbuffate, lo vedremo poi, sono secondarie degli stati emotivi. Le persone solitamente quando sono con altre persone, con familiari o amici, non hanno il comportamento di abbuffata ma mangiano normalmente. Successivamente quando sono soli possono andare incontro all'episodio bulimico e avviene appunto da soli proprio perché provano un forte imbarazzo, una forte vergogna per il loro comportamento. L'episodio di abbuffata è caratterizzato dal mangiare molto rapidamente. Questo ci dà un po' l'idea della perdita del controllo. E successivamente all'episodio di abbuffata si innescano delle emozioni di tristezza molto intensa, di ansia, di depressione, di disgusto verso se stessi. Vediamo quali sono i fattori di rischio per lo sviluppo del disturbo di alimentazione incontrollata. Diciamo che ci sono due classi di fattori di rischio. Da una parte quei fattori di rischio in generale per lo sviluppo dei disturbi mentali come potrebbero essere presenza di abusi nell'infanzia oppure negligenza genitoriale oppure depressione nei genitori, scarsa valutazione di sé, problemi interpersonali, l'aver avuto in precedenza altri disturbi mentali. Vi sono poi i fattori che invece aumentano il rischio di sviluppare l'obesità quali per esempio obesità nell'infanzia, alimentazione incontrollata nell'infanzia oppure l'aver subito critiche o commenti sul proprio peso e sulla forma del corpo. Questo disturbo, come un po' tutti i disturbi alimentari, è un disturbo che ha delle conseguenze molto importanti dal punto di vista sia psicologico che fisico. Dal punto di vista fisico, infatti, ci sono delle conseguenze relative sia alla presenza dell'obesità. Quindi se c'è un'associazione con l'obesità ci possono essere sindrome metaboliche, diabete di tipo 2, malattie del fegato, malattie cardiovascolari, alcuni tipi di cancro, sindrome dell'intestino irritabile, osteoartrosi, apne notturne e ovaio policistico per esempio. Però si è visto che ci sono anche delle complicanze fisiche che sono presenti anche se non c'è l'associazione con l'obesità. Infatti si è visto che persone che hanno esclusivamente binge eating disorder hanno comunque una maggiore probabilità di sviluppare le componenti tipiche delle sindrome metaboliche come l'obesità addominale, la dislipidemia, l'ipertensione arteriosa e le alterazioni della glicemia. Inoltre si è visto da diversi studi hanno dimostrato che queste persone riportano più frequentemente insoddisfazione per la propria salute, difficoltà al livello del sonno e dolori cronici muscolari al collo e alle spalle. Per quanto riguarda invece gli aspetti psicologici conseguenti al binge eating, conseguenti o coesistenti, dicevamo che appunto è un disturbo che influenza moltissimo la qualità della vita e quindi la capacità di stare in relazione con gli altri e di portare avanti le proprie attività per esempio professionali o scolastiche. C'è la presenza inoltre di bassa autostima, ci possono essere dei sintomi depressivi, ci può essere intolleranza alle emozioni e si è visto che c'è una comorbidità con l'abuso di alcol o di sostanze. È proprio questa comorbidità che ha fatto ipotizzare che il binge eating fosse come una dipendenza, anche perché ci sono stati degli studi che hanno dimostrato che c'è un aumento della dopamina dopo l'assunzione o di alcol o di cibo. Quindi si è ipotizzato che ci fosse un sistema della ricompensa disregolato. Tuttavia è da considerare effettivamente una dipendenza, sembrerebbe di no, perché prima di tutto coloro che si abbuffano hanno una spinta ad evitare l'episodio bulimico, non consumano particolari classi di alimenti, cioè non hanno un desiderio specifico su alcuni alimenti, ma durante le abbuffate possono essere compresi diverse categorie di alimenti. Le persone con binge eating poi mettono in atto la dieta ferrea intermittente che aumenta la vulnerabilità agli episodi bulimici, al contrario dell'utilizzo di chi utilizza sostanze, che non è più vulnerabile quando cerca di non assumerle. Inoltre si è visto che la relazione tra le abbuffate e l'uso di sostanze non è una relazione specifica, cioè c'è una correlazione che è simile alla correlazione con altri disturbi mentali. E si è visto anche che se c'è l'interruzione delle abbuffate non necessariamente c'è la sostituzione con l'alcol. Inoltre possiamo concludere che i dati sulla riduzione dei recettori dopaminergici sono inconsistenti e che comunque considerare il binge eating come una dipendenza non ha una reale utilità clinica nei termini del trattamento. Allora, adesso vi parlo un pochino dell'organizzazione dell'assistenza individuata dal Ministero della Salute per quello che sono i disturbi alimentari. Ci sono, diciamo, cinque livelli. Il primo è quello del medico di medicina generale o del pediatra a seconda dell'età, che è una persona molto importante, che ha un ruolo molto importante perché si trova ad avere a che fare con i primi sintomi. Quindi è molto importante il suo ruolo nel riconoscerli e poterli inviare a un trattamento specialistico. Quindi il secondo livello di intervento è la terapia ambulatoriale specialistica ed è questo il livello che è più adatto alle persone che hanno un disturbo da binge eating. Poi c'è la terapia ambulatoriale intensiva o centro di urno che è seguito dal ricovero riabilitativo o psichiatrico per finire con i ricoveri d'emergenza. Su questo lascio la parola alla dottoressa Nocita che vi espone quelle che sono i programmi di cura al nostro centro, al CIP. Grazie. Allora, lo stesso finito del CIP si colloca al secondo e al terzo livello di assistenza. Infatti include due programmi di cura. Un programma di cura ambulatoriale e un programma di cura ambulatoriale intensivo. Il programma di cura ambulatoriale include la psicoterapia, la riabilitazione nutrizionale ed un'eventuale gestione medica a seconda del caso e prevede una frequenza bisettimanale in struttura. Invece il programma di cura ambulatoriale intensivo include sempre la psicoterapia e la riabilitazione nutrizionale associate ad una gestione medica costante e associata all'assistenza ai pasti che vengono proprio effettuati in struttura. La frequenza è giornaliera per cui chi segue il programma intensivo frequenta il nostro centro dal lunedì al venerdì. In entrambi i programmi, quindi intensivo e ambulatoriale, l'equip adotta un accroccio di tipo cooperativo che poi appunto la dottoressa Ranzini vi descriverà più nel dettaglio e uno dei principi cardine proprio del protocollo CDTE. Prego. Ok, grazie mille. Allora, continuiamo appunto, ci focalizziamo adesso di più sulla parte del trattamento. In particolare partiamo da quelle che sono le indicazioni delle linee guida NICE, che sono le linee guida che sulla base della revisione della letteratura riportano gli interventi maggiormente efficaci e che hanno un buon rapporto, diciamo, costo-beneficio. Per il binge eating disorder viene indicato l'autoaiuto guidato, quindi la persona è invitata a seguire un manuale di autoaiuto di stampo cognitivo comportamentale con l'aiuto di un terapeuta, con il supporto di un terapeuta. Quindi sono 10-12 sedute della durata di 20-30 minuti dove si applica questo tipo di programma. Qualora questo trattamento non fosse indicato o dopo 4 settimane non fosse efficace, l'indicazione è quella di passare alla CBTE, quindi alla CBT migliorata per i disturbi dell'alimentazione individuale o di gruppo. Entrambi questi interventi hanno dei buoni livelli di efficacia nel senso che l'autoaiuto guidato porta circa al 46% di remissione del disturbo, la CBTE al 50%, più del 50%, con un follow-up a 48 mesi. appunto la CBTE è la terapia cognitivo comportamentale migliorata per i disturbi dell'alimentazione che ha come focus quello di aiutare le persone a riprendere la regolarità nell'alimentazione riducendo così gli episodi di abbuffata e lavorando su tutti quei meccanismi di mantenimento degli episodi pulimici. Una cosa importante che viene sottolineata dalle linee guida NICE è quella di spiegare ai pazienti con binge eating che i trattamenti psicologici non sono finalizzati alla perdita del peso, cioè hanno un effetto limitato su questo, hanno invece l'effetto di portare a un controllo sull'alimentazione. Naturalmente questo è un punto molto dolente per i pazienti che hanno un'associazione con il sovrappeso o con l'obesità. Dopo lo vedremo meglio. Non è consigliato perché il rischio di applicare dei programmi di perdita di peso se è presente un disturbo dell'alimentazione è quello di andare ad acuire la psicopatologia e quindi porterebbe ad un aumento delle abbuffate in alcuni casi che poi vedremo successivamente. Allora, prima di entrare un po' più nel dettaglio della CBTE, vi presento quella che è la prospettiva transdiagnostica che è stata sviluppata dal centro, credo, dell'Università di Oxford, da Fairburn, Cooper e Schaffran. La prospettiva transdiagnostica prevede, parte dall'osservazione clinica sui pazienti e dall'osservazione che vi è una migrazione tra le varie categorie diagnostiche. Quindi le persone nel breve o nel lungo periodo potevano ricevere più diagnosi psichiatriche. In realtà non è che una persona sviluppa più patologie, ma è che vi è un nucleo psicopatologico centrale che nel caso appunto specifico è l'eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo e questo nucleo psicopatologico porta alla manifestazione di diversi sintomi e quindi in questo senso sembra esserci un passaggio da una categoria diagnostica all'altra, ma in realtà c'è lo stesso nucleo psicopatologico. Per quanto riguarda il binge eating disorder è frequente, è possibile che siano persone che in passato avevano presenza di anoressia o di bulimia. è meno frequente che persone con binge eating migrino in queste categorie, è più frequente il contrario. Diciamo due parole, due riflessioni su quella che è la nostra esperienza clinica, ricollegandomi proprio a questo aspetto della patologia transdiagnostica. Allora, durante questa fase di quarantena, di lockdown, abbiamo ricevuto numerose richieste di aiuto da persone che sembravano proprio aver subito un cambiamento nella loro patologia, nel senso che ci sono arrivate richieste da persone che di solito mettevano in atto dei comportamenti di compenso e che però in questa fase di chiusura non hanno più potuto, non sono più riusciti a utilizzare gli stessi compensi. Penso a persone che facevano un certo tipo di esercizio fisico come compenso appunto alle abbuffate oppure persone che utilizzavano il vomito che non l'hanno più utilizzato perché stando maggiormente con la propria famiglia non si sono più sentiti liberi di poter utilizzare questo tipo di comportamento. Un'altra riflessione relativa proprio a questo momento storico è come anche gli altri significativi che quindi sono le persone, i familiari oppure i compagni o altre persone che si trovano, si sono trovati a vivere con persone che hanno disturbi dell'alimentazione si siano molto trovati in difficoltà e abbiano chiesto aiuto proprio su come poter aiutare i loro cari, i loro familiari. Quindi su questo ripasso la parola alla dottoressa Nuccita che vi presenta sulla base di queste esigenze quelli che sono gli interventi che sono stati proposti al CIP. Sì, grazie. Allora sì, proprio per rispondere a delle esigenze specifiche, peculiari di questo momento storico, abbiamo attivato due servizi all'interno del CIP. Uno rivolto specificamente ai congiunti e l'altro invece rivolto alle persone con problematiche alimentari. Quindi quello che vedete adesso nella slide è lo sportello appunto di ascolto che è stato attivato fin dalle primissime fasi di lockdown e che stiamo comunque tenendo attivo ancora adesso. È uno sportello che si rivolge a persone che hanno appunto delle problematiche alimentari e offriamo sia un supporto di tipo psicologico sia un supporto di tipo nutrizionale. Le modalità con cui ricevere questo tipo di supporto sono di libera scelta della persona. Quindi noi offriamo sia la possibilità di usufruire di questo sportello in modalità telematica oppure in modalità telefonica ed è uno sportello gratuito un servizio gratuito. A fianco a questo abbiamo attivato invece un'iniziativa specificamente rivolta a chi appunto affianca le persone con una problematica alimentare. Sappiamo benissimo tutti abbiamo vissuto questa esperienza di maggior tempo condiviso di maggiori spazi condivisi in tutto questo periodo di lockdown. Questo effettivamente ha comportato delle difficoltà per chi vive a fianco a chi soffre di disturbi alimentari. Per questo motivo abbiamo attivato un gruppo proprio online con una cadenza quindicinale rivolto ai familiari quindi ai genitori ma anche ai partner anche agli amici eventualmente anche agli insegnanti. Attualmente il gruppo che è partito circa un mese fa è ancora attivo ci si incontra appunto ogni due settimane con l'obiettivo un obiettivo duplice in realtà quello intanto di offrire delle strategie pratiche per la gestione della problematica strettamente alimentare quindi come gestire per esempio una buffata come gestire il rifiuto del pasto ma allo stesso tempo fornire un supporto psicologico rispetto a quelle che sono le difficoltà relazionali che si sono accentuate in questo ultimo periodo negli ultimi mesi. Appunto ci tengo a dire che entrambi questi servizi quello rivolto alle persone affette dal disturbo alimentare e quest'ultimo rivolto invece ai congiunti sono dei servizi ancora oggi attivi siamo convinti che ancora oggi nonostante insomma siamo in fasi avanzate nella gestione dell'emergenza sanitaria siamo convinti che ancora oggi sia necessario questo supporto e le richieste che arrivano effettivamente rendono conto di questa necessità. Bene, grazie. Ok, allora proseguiamo entrando più nel vivo di quello che è il trattamento che viene proposto qui al CIP quindi la terapia cognitivo comportamentale migliorata per i disturbi dell'alimentazione. Allora le caratteristiche di questo tipo di terapia è che è una terapia flessibile cioè viene adattata al singolo paziente proprio per affrontare meccanismi specifici e eterogene che operano nel mantenere gli episodi bulimici. È quindi appunto una terapia che prende in considerazione le caratteristiche di ognuno è una terapia protocollata che però appunto viene cucita a seconda delle esigenze e presenta dei moduli specifici che si sono dimostrati essere molto utili nella gestione di pazienti che hanno il disturbo dell'alimentazione incontrollata in particolare i moduli che affrontano i cambiamenti emotivi e i moduli che affrontano i problemi interpersonali. Il modulo appunto relativo alle problematiche interpersonali è un modulo derivato dalla terapia dalla psicoterapia interpersonale che insieme alla terapia cognitivo-comportamentale è un altro tipo di terapia che si è dimostrata utile per la gestione di questo tipo di problematiche. Nella CBTE vediamo qual è il ruolo del paziente. Allora prima di tutto bisogna dire appunto che la CBTE è una terapia individuale e rivolta al paziente quindi non è una terapia familiare però gli altri significativi possono essere coinvolti o nel caso in cui la persona sia minorenne oppure nel caso in cui vi sia la necessità e possa essere utile. Quindi è una terapia individuale in cui il paziente deve essere ingaggiato e deve essere attivo all'interno della terapia e all'interno delle sedute non solo all'interno delle sedute ma anche tra una seduta e l'altra quindi è un paziente che si impegna attivamente nel lavoro terapeutico tra le sedute che dà priorità al trattamento e che si concentra proprio nell'applicare le strategie e le procedure che vengono concordate insieme nel percorso terapeutico il punto di forza della CBTE è proprio il fatto di avere un approccio collaborativo con il paziente si lavora tutti insieme come una squadra e non si impongono delle regole o delle procedure se il paziente non è d'accordo quindi è un approccio appunto collaborativo e mai coercitivo Allora per parlare del trattamento dobbiamo prima di tutto considerare che il binge eating è un disturbo a ombrello cosa vuol dire? vuol dire che è un disturbo in cui la psicopatologia può avere diversi fattori di mantenimento questa immagine dell'ombrello indica che sotto il cappello della classificazione del binge eating ci possono essere tanti fattori da valutare e che possono appunto determinare gli episodi bulimici questi fattori sono l'eccessiva valutazione del peso della forma del corpo che come dicevamo è la psicopatologia specifica e nucleare dei disturbi dell'alimentazione che nel caso del binge eating non è sempre presente mentre nel caso della bulimia e dell'anoressia è sicuramente presente nel caso del binge eating potrebbe esserci ma potrebbe anche non esserci per questo è molto importante la fase valutativa proprio perché sulla base delle caratteristiche presenti si propone si propongono alcuni moduli piuttosto che altri quindi potrebbe esserci l'eccessiva valutazione del peso della forma del corpo oppure gli episodi bulimici potrebbero essere sostenuti principalmente da cambiamenti emotivi da eventi ed emozioni che influenzano che influenzano la persona e che portano a utilizzare il cibo come strategia e potrebbe esserci anche la presenza di intolleranza alle emozioni che adesso vediamo che cosa che cosa significa oppure potrebbero essere cioè il binge eating potrebbe essere l'espressione sintomatologica di un altro disturbo psicologico adesso entriamo nel dettaglio di tutti questi aspetti allora partiamo dagli eventi i cambiamenti emotivi allora questo è uno schema che viene condiviso con il paziente che esplicita proprio questo aspetto cioè esplicita che il fattore di mantenimento appunto in alcuni casi a seconda di quello che il paziente ci riporta può essere la presenza di aspetti emotivi quindi c'è un'emozione e la persona la gestisce utilizzando il cibo quindi il cibo viene utilizzato come attenuazione una modalità di attenuare gli stati emotivi come una modalità per distrarsi dagli eventi negativi o come una gratificazione come vedete ci sono due frecce che vanno in direzione opposta che collegano le due caselle questo significa che c'è un'interazione reciproca perché dopo l'episodio bulimico dopo l'episodio di abbuffata si possono presentare emozioni quali senso di colpa ansia depressione tristezza che a loro volta sono un nuovo trigger innesca nuovamente l'episodio bulimico un altro aspetto sempre legato alla parte emotiva è quello dell'intolleranza alle emozioni quindi le persone che hanno un'intolleranza alle emozioni sono persone diciamo sensibili agli stati emotivi che hanno difficoltà proprio nel tollerarli sia nel tollerare gli stati emotivi che definiamo diciamo negativi come rabbia ansia depressione sia rispetto a quelli positivi come gioia eccitamento per esempio quindi hanno difficoltà ad accettare di provare questi stati emotivi e anche difficoltà nella gestione pertanto utilizzano cercano delle strategie di modulazione dell'umore che però hanno lo svantaggio di ridurre la consapevolezza stessa dello stato emotivo provato quindi il cibo è uno di queste strategie possibili il punto è che poi queste strategie possono diventare disfunzionali e comportare un elevato costo personale come abbiamo visto con conseguenze sia a livello emotivo con conseguenza a livello interpersonale e anche fisico in questo caso vedete che c'è una terza casella che è quella dell'assunzione di alcol e o di sostanze stupefacenti l'uso di psicofarmaci o l'autolesionismo queste sono delle altre strategie che le persone possono utilizzare qualora vi sia la presenza di intolleranza alle emozioni proprio per andare a gestire gli stati emotivi quindi è spesso frequente appunto nei pazienti con binge eating che vengano utilizzate altre strategie oltre la buffata il secondo fattore di mantenimento è quello dell'eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo come abbiamo detto questo è un fattore sempre presente nei disturbi alimentari quali anoressia e bulimia e talvolta presente nel disturbo da binge eating in questo caso nel disturbo da binge eating conseguente a questa eccessiva valutazione la persona mette in atto la dieta ferrea che però viene messa in atto in modo intermittente quindi c'è maggiormente rispetto all'anoressia alla bulimia una modalità incontrollata di mangiare una modalità sregolata mentre nell'anoressia e nella bulimia la dieta ferrea non è intermittente ma è una dieta ferrea che viene utilizzata in modo costante in questo caso è messa in atto in modo appunto intermittente però comunque è un fattore che porta alla buffata perché la dieta ferrea è tale quando prevede delle regole che devono essere seguite perfettamente quindi completamente e molte regole quindi la persona fa fatica aderire poi a queste regole così rigide e così che sono tante in numero questo perché basta soltanto una distrazione o basta soltanto rompere la regola parzialmente per tramite un meccanismo tutto nulla avere accedere all'episodio di abbuffata che però la persona appunto vive come una perdita di controllo e non attribuisce non l'attribuisce al fatto che ha delle regole che sono troppe e molto rigide l'ultimo aspetto importante l'ultimo fattore di mantenimento è l'associazione con altri disturbi alimentari scusate mentali quali la depressione clinica il disturbo da uso di alcol e di sostanze e i disturbi d'ansia quando c'è questa associazione c'è un'interazione negativa tra questi disturbi mentali e il disturbo da binge eating cioè l'uno mantiene l'altro vediamo per esempio il caso della depressione nella depressione può esserci per esempio un aumento dell'appetito che porta all'aumento degli episodi bulimici e anche all'aumento di peso inoltre i vissuti depressivi possono portare la persona a pensare che non sia possibile cambiare e quindi c'è una fatica proprio a ingaggiarsi nei trattamenti inoltre con con la depressione si ha anche una scarsa concentrazione che rende difficile ritenere le informazioni che vengono espresse nel percorso terapeutico per quanto riguarda invece per esempio l'abuso di sostanze anche qui ci sono dei fattori di mantenimento nel senso che per esempio l'utilizzo dell'alcol può portare a maggior disinibizione e quindi favorisce l'episodio bulimico inoltre c'è un'interazione perché la necessità di gratificazione di modulare gli stati emotivi viene portata avanti tramite o il cibo quindi la buffata oppure attraverso l'alcol o le sostanze per quanto riguarda disturbi d'ansia la persona che sperimenta vissuti di ansia intensa può utilizzare il cibo come strategia per ridurre l'ansia tuttavia diciamo che in realtà nel breve termine può sperimentare una riduzione dell'ansia però nel lungo termine l'ansia viene mantenuta perché non si la persona non può sperimentare non riesce a sperimentare delle alternative più funzionali di gestione quindi è molto importante appunto come dicevo prima la fase di valutazione e il poter considerare che cos'è esattamente che determina l'episodio bulimico e quali sono i fattori di mantenimento proprio perché nel percorso terapeutico bisogna andare ad affrontare quei fattori che sono specifici per la persona allora vediamo un pochino come come si come si svolge la terapia cognitivo comportamentale allora se è presente come fattore di mantenimento l'eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo dovremo utilizzare dei moduli specifici che sono il modulo sull'immagine corporea e il modulo sulla restrizione dietetica allora nel modulo sull'immagine corporea allora prima si fa una parte di regolarizzazione dell'alimentazione che è molto potente nella riduzione degli episodi bulimici e poi si lavora sull'immagine corporea come vedete sulla sulla destra della presentazione ci sono due grafici a torta il primo è quello di persone che non hanno una problematica alimentare il secondo è quello di persone con un disturbo dell'alimentazione nel primo caso questi grafici rappresentano le modalità di valutazione di sé che una persona può avere nel caso in cui non ci sia un disturbo dell'alimentazione potete vedere che le fette sono ben distribuite quindi la persona si valuta su tante aree che possono essere la scuola la famiglia gli hobby le amicizie ogni fetta può essere più o meno grande però c'è una distribuzione piuttosto equa invece nel caso della presenza di un disturbo dell'alimentazione la maggior parte della valutazione di sé passa tramite il peso la forma del corpo e il loro controllo le altre aree vengono poco considerate c'è una marginalizzazione quindi delle aree di vita e questo ancora di più naturalmente mantiene l'eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo nel modulo della restrizione dietetica invece l'obiettivo è quello di valutare la dieta ferrea come un problema e quindi poter affrontare tutte le regole dietetiche che la persona che possono essere molto varie possono essere delle regole su che cosa mangiare come mangiare e quando mangiare se invece nella fase di valutazione si è appunto valutato si è condiviso con il paziente che è presente un'intolleranza alle emozioni o che le abbuffate sono influenzate dagli eventi e dagli stati emotivi abbiamo i diversi moduli quello degli eventi e delle emozioni quello dell'intolleranza alle emozioni e quello delle difficoltà interpersonali nel modulo degli eventi ed emozioni si aiuta la persona a valutare con delle procedure di problem solving proattivo di non esporsi o comunque trovare delle soluzioni a delle situazioni che possono essere dei trigger per gli episodi di abbuffata nel modulo dell'intolleranza alle emozioni si aiuta la persona a valutare in modo diverso gli eventi a tollerare gli stati emotivi e gestirli in modo più funzionale e nel modulo delle difficoltà interpersonali si valuta qual è la difficoltà e si aiuta la persona ad avere dei comportamenti più utili all'interno delle relazioni vi sono poi dei moduli aggiuntivi che sono i moduli sul perfezionismo clinico sulla bassa autostima nucleare che possono essere inseriti qualora vi fossero queste caratteristiche che mantengono il e sono quindi un ostacolo per il trattamento del disturbo da binogiting allora abbiamo detto che il livello di cura che frequentemente è più appropriato per questo tipo di pazienti è quello dell'ambulatoriale estensivo talvolta è possibile l'intensificazione nel momento in cui non ci fosse una risposta a questo tipo di trattamento la prognosi è molto buona per questo tipo di pazienti nel senso che il tasso di successo è del 79% nel breve periodo e maggiore del 50% con appunto un follow up fino a 48 mesi quindi un tasso di risposta positiva molto elevato al trattamento migliore rispetto al tasso di risposta dei pazienti con anoressia e bulimia l'ultima parte della presentazione è dedicata alla presenza dell'obesità questo è un fattore importante che può esserci frequentemente in persone che hanno disturbo da binge eating però potrebbe anche non esserci l'obesità può essere può precedere la comparsa del disturbo alimentare o essere la conseguenza degli episodi ricorrenti di abbuffata se c'è la presenza dell'obesità il disturbo da binge eating e l'obesità coesistono e interagiscono negativamente questo perché gli episodi di abbuffata favoriscono il peso in eccesso il peso in eccesso sappiamo che aumenta le preoccupazioni per il peso e la forma del corpo e quindi incoraggia la dieta e gli altri comportamenti estremi di controllo del peso e inoltre il peso in eccesso si associa con un ridotto esercizio fisico e quindi anche con un aumento degli stati emotivi negativi che vengono gestiti attraverso l'abbuffata inoltre quindi come vedete da questa da questa formulazione personalizzata quindi l'abbuffata porta un aumento dell'obesità che a sua volta influenza e aumenta l'eccessiva valutazione del peso della forma del corpo se la se un paziente ha una formulazione di questo tipo dove in alto c'è l'eccessiva valutazione del peso della forma del corpo va proprio esplicitato come dicevamo prima e come indicato anche dall'Ineguida Nais che il trattamento psicologico non ha come obiettivo mirato quello della perdita del peso la perdita di peso potrà essere un obiettivo rivalutato e preso in considerazione solo in una fase successiva cioè soltanto quando vi è una remissione stabile un periodo stabile in cui non è più presente il disturbo dell'alimentazione in cui non sono più presenti gli episodi di abbuffata ok io ho finito con la mia presentazione adesso lasciamo il posto alle vostre domande bene grazie Laura e allora riprendo alcune domande che sono state scritte durante la presentazione e poi insomma iniziamo in ordine cronologico allora c'è una persona che ci chiede ci chiede questo se oltre al binge eating vi sia attenzione anche all'identificazione di presenza di iperfagia iperfagia intesa come fame insaziabile prego allora provo a rispondere nel senso che bisogna capire che cosa si intende con fame insaziabile nel senso che credo proprio che sia l'aspetto di cui abbiamo parlato quindi comprendere se questa fame diciamo è una fame emotiva quindi è legata più a fattori di mantenimento di tipo emotivo legate all'intolleranza delle emozioni oppure se è un aspetto che consente alla dieta ferrea quindi è una restrizione che può essere nel binge eating abbiamo detto di solito è legata cioè è intermittente quindi c'è un periodo di dieta ferrea che si alterna a un periodo di alimentazione eccessiva e quindi è conseguente a questa restrizione sia calorica che cognitiva quindi questa tendenza a mangiare in eccesso ha questi fattori di mantenimento ok andiamo avanti sulle domande poi c'è un'altra persona che chiede questo sulla prima fase del trattamento chiede delle specifiche sulla prima fase del trattamento che aiuta il paziente a seguire un manuale di autoaiuto e quindi chiede questa persona chiede di spiegare un attimo questa parte sì allora in realtà non è una prima fase di trattamento ma sono due trattamenti diversi nel senso che si può secondo le linee guida NICE l'indicazione è quella di proporre prima l'autoaiuto guidato quindi c'è un manuale di autoaiuto che il paziente utilizza e che riporta tutti i passi per affrontare il disturbo dell'alimentazione secondo un'ottica CBT quindi cognitivo comportamentale e questo manuale viene seguito anche con l'aiuto di un terapeuta quindi il paziente fa delle sedute si prevedono appunto una decina di sedute di lunghezza inferiore a quelle che sono le sedute classiche di psicoterapia con le sedute della durata di una ventina di minuti in cui il terapeuta aiuta il paziente lo supporta nell'applicazione di quello che viene indicato nel manuale questo è un tipo di trattamento che qualora risultasse o non efficace oppure non adeguato per un certo paziente allora viene diciamo sostituito si passa all'applicazione della CBT quindi non so se la domanda era sul primo passo della CBT o su questo aspetto perché il primo passo della CBT invece prevede l'ingaggio del paziente quindi di spiegargli qual è la terapia di spiegargli che il suo ruolo sarà molto attivo di appunto motivarlo in questo senso e prevede tutta una parte di applicazione di procedure che hanno la finalità di ridurre gli episodi bulimici regolarizzando l'alimentazione in questa prima fase si appunto valutano i vantaggi e gli svantaggi del cambiamento e soltanto nel momento in cui il paziente giudicasse vantaggioso superare la problematica alimentare si procede con il percorso terapeutico ok c'è una domanda rispetto al gruppo online di altri incontri sì quello è un servizio a pagamento perché è proprio un intervento terapeutico leggo la successiva se è possibile avere le slide sì allora è possibile avere le slide come è successo per gli incontri precedenti le trovate in segreteria quindi potrete potrete appunto venire a trovarci e appunto prendere la vostra copia allora un'altra persona ci chiede quale correlazione ci potrebbe essere con tratti compulsivi nel bed rispetto ad altri disturbi alimentari sì allora forse questa domanda si si riferisce all'aspetto che abbiamo un po' discusso della dipendenza in qualche modo quindi della compulsione alimentare in questo senso e abbiamo visto come in realtà non sia da considerarsi in questo senso anche perché abbiamo detto che considerare questi aspetti come una dipendenza come aspetti compulsivi in questi termini non ha un'utilità clinica perché come avete visto il trattamento non prevede un trattamento in questo in questo senso cioè il trattamento validato scientificamente ok poi c'è un'altra persona che condivide questo ha letto articoli scientifici mettono in relazione il disturbo borderline di personalità e quello del comportamento alimentare proprio per l'impulsività che si esplica anche nelle sostanze d'abuso può esserci una correlazione tra l'assunzione di cibo e una strategia per migliorare il rumore negativo si si assolutamente proprio nei nei termini del il cibo viene utilizzato come una modalità per migliorare l'umore negativo per attenuare certi stati emotivi che diventano intollerabili che sono vissuti come intollerabili e quindi in questo senso se c'è una persistenza di questo dopo la prima fase in cui si è si è affrontata la regolarizzazione dell'alimentazione si può utilizzare il modulo dell'intolleranza delle emozioni proprio per lavorare su questo aspetto parlando sempre di intolleranza delle emozioni una persona chiede se all'interno di questo specifico modulo si utilizzino tecniche di mindfulness allora il modulo dell'intolleranza alle emozioni prevede delle tecniche derivate dalla terapia dialettico comportamentale quindi dalla dbt e non tanto tecniche di mindfulness allora su quali aspetti terapeutici si lavora in caso di intolleranza emotiva attraverso i moduli di difficoltà interpersonale eventi e difficoltà emotivo o intolleranza emotiva e nei moduli aggiuntivi non so se chiara la domanda allora provo a rispondere allora chiede su quali aspetti terapeutici si lavora in caso di intolleranza emotiva allora forse non sono stata chiara nel senso che se c'è intolleranza emotiva non si lavora con il modulo delle difficoltà interpersonali ma proprio con il modulo specifico dell'intolleranza alle emozioni quindi sono tre moduli separati c'è il modulo dell'intolleranza alle emozioni il modulo degli eventi ed emozioni e il modulo delle difficoltà interpersonali sono proprio tre moduli separati che vengono utilizzati qualora si valuti che ci sia quella specifica difficoltà quindi non sono tre moduli per lavorare tutti sull' sull'intolleranza emotiva ma sono separati ok può essere che il bimbo avvenga una volta all'anno nello stesso periodo in maniera decisamente incontrollata suppongo post-traumatica per poi affievolirsi ma ugualmente con abbuffate quasi settimanali allora per avere come dicevamo una diagnosi secondo DSM ci vuole una certa frequenza però sicuramente questa domanda riflette quella che è una realtà clinica cioè il fatto che il binge eating possa avere nel tempo dei periodi che sembrano quasi di remissione comunque dei periodi in cui la problematica migliora quasi con assenza di episodi bulimici a periodi invece in cui la problematica si fa più presente magari proprio in momenti di vita qui c'è scritto post-traumatica possiamo dire momenti di vita stressante per esempio ok la mindful eating può essere un intervento valido per il binge eating nel trattamento in studio privato allora come come dicevamo la la letteratura scientifica ci dice che è la CBT e avere insomma dei risultati di validità su il binge eating diciamo che se se prendiamo una parte del mindful eating che è una parte di come mangiare quindi rompere alcune regole sul come mangiare può essere considerata un intervento che noi facciamo nella parte della del modulo della restrizione alimentare non tanto con tecniche mindful però considerando questi aspetti bene se il vendo viene mantenuto da tutti e tre i fattori quindi altro disturbo eccessiva valutazione del peso ed eventi emotivi come si risolve da quali di questi fattori partire allora credo che questa sia una domanda molto complessa e molto importante che è proprio una domanda molto clinica che passa attraverso appunto la valutazione la valutazione clinica allora in effetti se ci sono tutti questi aspetti coesistenti bisogna un po' capire da dove partire e dipende un po' dal dal singolo caso sicuramente se c'è il fattore della presenza di altri disturbi bisogna partire un po' da lì e valutare quanto è influente perché naturalmente se c'è un importante abuso di sostanze questo è da prendere in considerazione così come se c'è un'importante depressione clinica va valutata e va considerato di poter affrontare questo aspetto per poi vedere che cosa succede al disturbo dell'alimentazione e successivamente prendersene cura nel momento in cui invece ci sia la coesistenza dell'eccessiva valutazione del peso degli aspetti più legati all'emotività all'intolleranza alle emozioni e non ci fosse la presenza di altri disturbi mentali in questo caso la CBTE è proprio un trattamento che va ad affrontare passo per passo con i singoli moduli le varie difficoltà ok un'altra domanda per quanto riguarda l'ingatto come si spiegherà due parole sull'ingatto sì allora nella CBTE c'è proprio quello che è la prima fase del trattamento che si preoccupa di essere ingaggiante diciamo che la CBTE è una terapia di per sé stessa ingaggiante perché è fatta da procedure che sono molto potenti e molto efficaci nel ridurre gli episodi bulimici e quindi c'è un vantaggio di per sé inoltre si lavora proprio nello specifico su questo aspetto qualora vi fossero degli ostacoli al al trattamento proprio analizzandoli nel dettaglio analizzando che cosa sta succedendo che ci sta impedendo di affrontare di essere ingaggiati in questo trattamento ok quanto è il rapporto con la madre influenza lo sviluppo di un bingito intrisore allora sappiamo che i disturbi dell'alimentazione hanno un'eziologia multifattoriale e che non c'è un singolo elemento determinante nello sviluppo del disturbo anzi diciamo che queste queste teorie sull'attaccamento sulla responsabilità genitoriale determinano molti sensi di colpa che non sono utili all'interno del trattamento proprio perché non permettono di mettere in campo tutte le risorse che invece sono essenziali sono molto importanti anche da parte delle persone significative per aiutare chi ha la problematica alimentare quindi non sono utili e non hanno delle evidenze scientifiche per cui conviene lasciarle andare e concentrarsi su quello che si può fare sì spesso fanno parte dei familii più consistenti ma allo stesso tempo più osservanti per poter effettivamente fornire un aiuto efficace no? assolutamente qualcuno ci chiede sono interessata alle evidenze sulla non consistenza dell'ipotesi di dipendenza da cibo quindi perché parliamo di binge eating e non di dipendenza da cibo se puoi dire qualcosa in più consigliare qualche studio o anche qualche magari riferimento bibliografico sì allora magari possiamo inviare per mail i riferimenti bibliografici specifici degli articoli che appunto affrontano questi aspetti riprendo un po' quello che ho detto durante la presentazione quindi il non considerare il binge eating come una dipendenza dipende da diversi fattori intanto appunto che coloro che hanno un episodio bulimico hanno comunque la spinta a evitare questo cosa che invece non sempre succede nell'uso delle sostanze non c'è un craving un desiderio specifico su certi alimenti perché sappiamo che le abbuffate sì possono partire da alimenti vietati se siamo nell'ottica dell'abbuffata conseguente alla dieta ferrea però non c'è il desiderio specifico rispetto ad un alimento e quindi in questo è diverso dalla ricerca della sostanza stupefacente o dell'alcol che è molto specifica inoltre appunto c'è questo aspetto del mettere in atto la dieta ferrea che è un fattore di vulnerabilità invece abbiamo visto dicevamo che chi usa le sostanze non ha una maggiore vulnerabilità nel momento in cui fa un tentativo di non di non assunzione inoltre insomma questa ipotesi del disturbo da binge eating come una dipendenza è nata proprio dal fatto che si è visto che c'era una comorbidità con il disturbo da uso di sostanze o di alcol tuttavia questa relazione si è vista non essere specifica e esserci una correlazione naturalmente sì però simile a quella che c'è con altri disturbi mentali inoltre come dicevamo non c'è un'utilità clinica in termini di trattamento nel considerare nel considerarlo come una dipendenza ok c'è una nutrizionista che mi capita spesso di accogliere pazienti con questo tipo di disturbo che non vogliono però affiancare un supporto psicologico oltre a fare un'educazione alimentare non dieta restrittiva come posso aiutarli quindi immagino sia come posso aiutarli a considerare anche l'aspetto psicologico del problema alimentare sì allora in effetti quello che succede è come dicevamo l'esordio conseguente più ai venti di vita stressanti per cui poi c'è l'aumento di peso poi viene messa in atto la dieta per perdere il peso e in questo caso i pazienti spesso si rivolgono a un percorso di tipo nutrizionale e non un percorso di tipo psicologico forse l'aiuto che può essere dato loro è proprio fornire un razionale di questo spiegando che il trattamento per questo tipo di difficoltà è un trattamento psicologico quindi dando loro le informazioni corrette e magari se proprio c'è una resistenza una difficoltà nel poter intraprendere un percorso psicologico aiutandoli un pochino a vedere che questi episodi di perdita di controllo sul cibo possono avere una correlazione con stati emotivi questo potrebbe essere utile e aumentare la comprensione della necessità di un percorso più specifico sì e mi sento di aggiungere anche che potrebbe essere utile per riflettere queste persone sull'utilità di adottare l'approccio che hanno sempre adottato fino a questo momento quindi proprio chiedere di pensare quanto utile è stato fino adesso occuparsi solo eventualmente della parte alimentare che tipo di risultati hanno riscontrato utilizzando esclusivamente questa strategia e quindi forse questo può aprire un po' lo spazio verso altre prospettive questo per esperienza clinica di solito funziona nella CBTE la famiglia non viene mai coinvolta allora nella CBTE la famiglia viene coinvolta nel caso in cui il il paziente la paziente sia minorenne e in questo caso si tratta comunque di una terapia individuale per cui si coinvolgono i familiari in una seduta iniziale valutativa che è soltanto con la presenza dei genitori successivamente nel corso della terapia vengono coinvolti ma con delle sedute congiunte quindi si tiene uno spazio nella nella seduta alla fine della seduta e si fa una seduta congiunta questo appunto in caso in cui la persona sia minorenne ma comunque sempre concordandolo con la persona eventualmente valutandone infra e contro insieme nel caso in cui la persona sia maggiorenne non si fa di default come con chi è minorenne però si valuta insieme al paziente la possibilità di coinvolgere comunque i familiari proprio perché talvolta possono essere o un ostacolo e quindi si affronta questo aspetto oppure possono essere un'importantissima risorsa e quindi si chiede un po' aiuto ho conosciuto che nei momenti di dieta ferrea hanno sostituito il disturbo con alcol e sostanze in questo caso si parla dei dipendenti vi sono dei trattamenti più specifici per uno o per l'altro problema? Allora forse potrebbe essere una situazione in cui c'è quel fattore di mantenimento che è la presenza di un altro disturbo in questo caso si può valutare appunto di proporre un trattamento specifico oltre che la CBT e sull'uso delle sostanze oppure potrebbe esserci un'intolleranza alle emozioni che abbiamo visto possono essere gestite sia attraverso il cibo oppure anche attraverso l'uso dell'alcol e delle sostanze quindi i due comportamenti possono essere utilizzati in questo senso sempre come attenuazione di uno stato emotivo Ancora un altro c'è ancora la fine tra il bingit con una storia familiare in cui il paziente è cresciuto in un ambiente eccessivamente perfezionistico controllo dell'abbigliamento dei voti scolastici per cui la perdita di controllo sarebbe un'attività diversiva Allora come dicevamo non c'è un'unica causa un unico fattore che determina la presenza della problematica alimentare ci possono essere molti fattori a partire da quelli genetici e anche da esperienze di vita che si sono vissute quindi un contesto perfezionistico potrebbe in qualche modo su una persona predisposta aver influenzato in questo caso se quel contesto è ancora presente si può utilizzare nel caso appunto del perfezionismo il modulo sul perfezionismo e andare anche a coinvolgere per esempio i genitori esplicitando che il perfezionismo può mantenere la problematica alimentare e quindi cercando insieme di lavorare per ridurre e limare questo perfezionismo clinico che è un perfezionismo estremo ok il manuale di autoaiuto è noto oppure è un uso specifico della struttura il manuale di autoaiuto sulla CBTE si può acquistare tranquillamente e è proprio un manuale che si trova anche questo di questo possiamo mandare eventualmente l'indicazione però insomma proprio un manuale di autoaiuto specifico sulla CBTE che nell'edizione italiana è a cura di Riccardo Dalle Grave Sì in un'edizione molto semplice accessibile per quanto tratti dei temi tecnici quindi sicuramente è fruibile sicuro è fruibile c'è una correlazione tra binge eating e menorrea allora sicuramente le problematiche alimentari possono avere dei risvolti anche da un punto di vista ginecologico e quindi da un punto di vista fisico organico per questo è sempre importante che all'interno dell'equip ci sia un medico che possa prescrivere tutti gli esami e che possa valutare anche tutti gli aspetti medici diciamo che la menorrea è molto frequente molto riscontrata nei casi di anoressia nervosa proprio perché diciamo il corpo va al risparmio energetico e quindi anche la funzione riproduttiva viene messa in stand by naturalmente appunto c'è un medico che si occupa proprio della valutazione di tutti questi aspetti ok qualcuno dei rifiuti bibliografici per professionisti sul protocollo cdte quindi ricordiamo che ci sono i testi che hanno come autore Riccardo Dallegrame sia sulla cdte quindi più in generale che quella rivolta agli adolescenti e poi invieremo comunque appunto dei riferimenti scritti così che abbiate proprio il titolo completo non solo l'autore ma anche l'editore vediamo un po' quanti e quali sono i moduli della cdte allora i moduli della cdte sono allora c'è una prima parte appunto dove si si affronta l'alimentazione regolare poi c'è il modulo dell'immagine corporea il modulo che affronta la restrizione cognitiva e calorica il modulo sui perfezioni e poi quelli sono i moduli esterni allora faccio prima quelli standard il modulo sugli eventi ed emozioni e il modulo sull'intolleranza alle emozioni poi c'è il modulo sul perfezionismo clinico il modulo sulle difficoltà interpersonali e il modulo sulla bassa autostima nucleare ho utilizzato la cdte con i gruppi ed ho riscontrato che alcuni pazienti non riescono a beneficiarne ci sono dei criteri di inclusione per fare il reclutamento di pazienti in gruppi tt o come poter gestire situazioni differenziate all'interno del contesto di gruppo sì io credo che possa essere molto importante l'aspetto di valutazione dell'ingaggio quindi se valutare se ci sono degli ostacoli degli svantaggi nel diciamo affrontare la problematica alimentare perché se ci sono questi ostacoli che che bloccano sono sicuramente da prendere in considerazione e forse nel caso in cui ci fossero degli aspetti significativi valutare una terapia individuale proprio per affrontarli in modo in modo specifico individualizzato nel caso di in un adolescente cosa possono fare i genitori sì allora i genitori come dicevamo sono sicuramente una una risorsa e a seconda delle varie fasi del del percorso si concorda con i genitori che cosa possono fare per aiutare la persona che ha il disturbo però questo è altamente specifico non ci sono dei criteri delle indicazioni che vanno bene per tutti proprio perché si concorda con con la persona per esempio ci può essere una difficoltà sugli stati emotivi che magari derivano da episodi di conflittualità e in quel caso si può ragionare insieme su come ridurre la conflittualità migliorare la comunicazione nel caso in cui la disregolazione avvenga più sulle regole dietetiche si chiederà alla famiglia di aiutare la persona a mettere in atto l'alimentazione regolare quindi dipende un po' da qual è la difficoltà rilevata e da che cosa il paziente ci sta chiedendo potreste fare un esempio di quali possono essere le problematiche interpersonali alla base del mantenimento di questo disturbo sì allora le problematiche interpersonali possono essere di vario tipo per esempio ci possono essere delle persone che hanno delle relazioni interpersonali caratterizzate dalla presenza di una scarsa assertività per cui tendono sempre a mettere i propri desideri i propri bisogni in secondo piano non esprimendoli mai questo chiaramente determina delle emozioni comunque negative che possono poi essere il trigger per gli episodi di abbuffata quindi insieme alla persona si può valutare intanto la presenza della problematica e di che tipo e poi trovare delle strategie per una gestione diversa oppure talvolta possono essere delle difficoltà perché si deve un po' cambiare ruolo per esempio questa è la situazione degli adolescenti che passano dall'essere meno autonomi meno indipendenti al dover diventare adulti dover fare la propria vita quindi devono assumere un nuovo ruolo e questo può creare non poche difficoltà e non pochi contrasti anche all'interno del percorso familiare quindi si valuta e si affronta a seconda della problematica riportata All'inizio del controllo la dottoressa Sassaroli ha parlato di aspetti condivisi tra disturbi restrittivi e disturbi conalimentate alla luce di questo questo trattamento CDT potrebbe essere utilizzato anche per altri disturbi alimentari oltre al vingitip la risposta è sì intanto è vero che abbiamo descritto l'applicazione di questo futuro ruolo durante due incontri precedenti uno è venuto a maggio e quello precedente ad aprile quindi l'abbiamo visto proprio presentato l'applicazione della CVTE alla norissia nervosa e alla bulimia nervosa poi ci chiedono qualcosa in più sulla CVTE potremmo stare qui tanto tanto tempo cosa possiamo dire intanto è stato già evidenziato bene dalla dottoressa Razzini che è un trattamento individualizzato flessibile strutturato per moduli cito sulle singole esigenze del paziente diciamo che poi ci sono delle specifiche a seconda che venga rivolto a pazienti con la norissia nervosa che quindi hanno una concettualizzazione un funzionamento di un certo tipo rispetto a quelle con bulimia nervosa o quelli appunto pazienti con affetti da binge eating abbiamo un po' accennato al ruolo dei genitori che non è centrale ma che comunque viene considerato come importante Laura vuoi aggiungere qualcosa sempre rimanendo nei limiti di tempo che abbiamo perché veramente ne potremmo parlare molto molto a lungo sì appunto sicuramente si tratta di un trattamento con evidenze scientifiche che va ad affrontare quei meccanismi specifici e che mantengono le problematiche e non affronta altri aspetti che possono essere presenti ma possono non essere così così influenti quindi utilizza un po' un principio della parsimonia quindi fare poche cose ma fatte bene diciamo quindi affrontare quello che effettivamente mantiene la problematica alimentare è un tipo di terapia che ha un inizio e che ha una fine ben definita per i pazienti non sottopeso è della durata di 20 settimane quindi questo si esplicita al paziente ed ha anche una spinta importante al cambiamento come dicevamo un trattamento intrinsecamente ingaggiante perché permette di avere dei risultati nel breve termine che aumentano appunto l'ingaggio e proprio per questo nella prima fase della terapia si fanno delle sedute più ravvicinate di due volte alla settimana per il primo mese quindi le prime otto sedute proprio per dare quello che viene definito come lo slancio terapeutico quindi una fase in cui è importante che ci sia un coinvolgimento che non ci siano interruzioni questo dura anche tutto il percorso proprio un percorso in cui si richiede al paziente di essere attivo mi fermo qua perché sicuramente di cose da dire ce ne sarebbero tante però vediamo magari altre domande ne abbiamo spazio per l'ultimo come integrare l'attività fisica all'interno del percorso ed eventualmente che tipo di attività fisica allora come dicevamo diciamo l'attività fisica potrebbe essere un meccanismo che aiuta e favorisce la perdita di peso tuttavia non è utile avere questo obiettivo per quei pazienti che hanno un'eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo quindi l'attività fisica nei termini per esempio dei mille passi al giorno può essere valutata nel momento in cui non c'è quel meccanismo nucleare di mantenimento poiché risulterebbe essere come una modalità di controllo e quindi andrebbe ancora di più a aumentare il controllo che poi può portare al discontrollo nello stesso modo determinato dall'adozione della dieta ferrea ok allora abbiamo cercato di rispondere a quante più domande possibili quindi le domande alle quali non avete ricevuto risposta noi le salveremo e come abbiamo fatto per gli incontri precedenti risponderemo via email a tutti voi nei prossimi giorni qualcuno ha chiesto in chat se è disponibile la registrazione di questo evento sì anche questa sarà disponibile sulla nostra pagina facebook cliniche italiane di psicoterapia minano navigli tra qualche giorno ecco vi ringrazio per aver partecipato così numerosi anche a questo evento e con oggi vi ricordo che si conclude questo primo ciclo di incontri informativi su disturbi alimentari abbiamo in corso una serie di idee una serie di progetti quindi vi invitiamo a mantenervi sempre aggiornati seguendo la nostra pagina facebook e anche attraverso il nostro sito un'ultima cosa vi segnalo che nelle prossime ore riceverete un email con un questionario di gradimento per poter valutare l'incontro di oggi quindi vi ringraziamo per la collaborazione oltre che per la partecipazione vi diamo giusto così un invito vi facciamo per entrare virtualmente dentro la struttura del ciclo di Milano attraverso questo video e vi auguriamo così anche un buon weekend il ciclo di Milano è nato per metterci alla prova con pazienti con disturbo elementare che o sono usciti dall'ospedale e quindi bisogna stabilizzarli oppure non ancora pronti all'intervento ospedalieri oppure in attesa o in una lista di attesa per l'intervento ospedalieri noi abbiamo nel nostro comitato scientifico l'equipe di la gara con il dottor Valle Gravi e la dottoressa Carucci e rappresenta un comitato che sta facendo la ricerca più avanzata al mondo su questo tipo di strutture nello specifico gli obiettivi che ci poniamo sono perseguiti attraverso dei percorsi individualizzati e flessibili che includono due programmi di cura un programma ambulatoriale intensivo e un programma ambulatoriale si tratta di programmi che vengono realizzati grazie al lavoro sinergico di un'equipe non eclettica formata da psichiatra psicoterapeuti psicologi e dietisti l'accesso al chip avviene o su invio del paziente stesso o su invio di un familiare o su invio di un professionista esterno che decide di avvalersi della nostra collaborazione il primo contatto è in una visita psichiatrica è eseguito una valutazione psicodiagnostica e una restituzione di questo primo pezzo iniziale di un percorso che mi è fatta sempre conto il trattamento psicoterapico prevede l'applicazione della CVTE una terapia individualizzata ovvero cucita sulle esigenze di ogni singolo paziente e flessibile ovvero che prevede l'applicazione di strategie e procedure terapeutiche in maniera sequenziale per affrontare le caratteristiche peculiari della psicopatologia la CVTE utilizza l'approccio di ogni paziente di tipo collaborativo e non ricercitivo è una terapia molto strutturata e limitata nel tempo che può essere sottimistrata a pazienti sia adulti che adolescenti in applicazione alla CVTE il trattamento nutrizionale prevede l'incontro a calienza settimanale con il dietista lo scopo delle visite è quello di concordare in collaborazione con il paziente i pazzi della settimana non si adottano infatti misure prescrittive ma si lavora sulla cooperazione e sulla condivisione di obiettivi comuni bene vi salutiamo ancora e buon weekend a tutti grazie per essere per aver partecipato grazie grazie